Ok, va bene allora cercherò di non annoiarvi troppo visto che l'argomento evidentemente non vi interessa Eskpal, il Seba mi ha... anzi durante la classica riunione di pre-esc è uscita l'idea di fare un sistema di pagamento così divertente per dare un capture flag con una marcia in più lavorando proprio sull'hardware e quindi mi sono messo a sviluppare un affarino che adesso vi andrò a raccontare Cosa rende un sistema di pagamento sicuro? Magia Allora, fondamentalmente questo, anche se qualcuno ci avesse provato penso che la difficoltà più grande stesse nella security through obscurity che in tre giorni e con un interesse non abbastanza alto non permette di fare analisi approfondite e sarcazzi Comunque, cosa vogliamo? Un sistema che funzioni tre giorni in un camp pieno di hacker super lit Ho messo una T invece del 7, vabbè Una resistenza moderata ad attacchi fisici quindi deve essere un po' robusto fisicamente anche se non serve tanto perché ci sono solo due tipi di hacker giusto Rebus Quelli Neo, Neo che sparano e aprono tutte le cose e i nerd sfigati come noi che avrebbero difficoltà a rompere questa plastica Che sia sicuro perlomeno dagli hack più lame quindi tipo il cloning che invece funziona sui biglietti dell'autobus di Venezia ha funzionato per un periodo, praticamente tu compravi il biglietto ti leggevi i dati all'interno usavi il biglietto, riscrivevi i dati di quando l'avevi comprato e potevi riusarlo Epto ne ha parlato negli anni scorsi e ormai penso che sia chiuso sto problema La 25 di aprile di quest'anno Ed è giusto così Che sia ridondante, che ci sia un sistema di ridondanza perché giustamente se qualcuno fa qualche danno cercando di catturare la bandiera giustamente poi avremo essendo questa effettivamente una moneta che qualcuno ha pagato Non vorrei ritrovarmi con un sacco di persone che hanno degli ESC che non funzionano e che non possono spendere e quindi dover svenarmi per offrire birra a tutti E in più, soprattutto, è fondamentale una double-edged security with innovative cyberfixing Quindi, il piano A La base proprio per avere un sistema funzionante è un'alimentazione Una batteria di backup Ho usato un Arduino Pro Mini per la gestione del software Un display LCD, un'interfaccia utente, quindi display LCD Un pulsante, un buzzer Un lettore RFID Non mi ricordo il modello ma basta che cercate RFID Arduino e trovate tutto via SPI E una microSD per tenere un database perché ovviamente c'è solo un modo di avere una sicurezza quasi decente con uno strumento non crittografato e completamente aperto come questi biglietti dell'autobus Ma vediamo come era fatta all'interno la mappa, la memoria, all'interno di questo oggetto È un tag nRFID basato su Miffer Ultra Light Contiene 64 byte di memoria diviso in 16 pagine con 4 byte ciascuna Le prime due pagine sono 8 byte di un numero di serie preprogrammato in fabbrica quindi non modificabile Ci sono 4 byte di configurazione 4 byte che possono essere scritti ma non più cambiati quindi one time programmable che in questo caso però non ho usato perché sì, possono essere utili ma preferivo usare dare la possibilità di riciclarlo e comunque non lo so non mi interessavano non sarebbero stati utili al mio scopo anche perché qualcuno avrebbe potuto andare a settarli a tutti quanti e invalidare tutti gli ESC e abbiamo 48 byte di memoria utile che possiamo sfruttare per metterci dentro le nostre cosine le prime quattro pagine ci ho messo 7 castronomi così un riferimento a caso e un sorrisino che è l'esadecimale 03 in Ashi e volevo in realtà mettere What a strange game the only winning move is not to play perché comunque secondo me avrebbe dato uno stimolo in più una marcia in più a chi voleva crackare questo sistema e quindi sprechiamo 4 pagine così giusto per fare un saluto e poi abbiamo la pagina 8 pagina 8 contiene 0x15 0x15 che è l'asci di ESC l'escape l'escape character tra l'altro quindi giusto per visto che sono gli ESC abbiamo un super riferimento a Antani più 2 byte in cui era memorizzato il valore degli ESC il valore di scramble è molto semplice si flippano i byte quindi si inverte l'ordine dei bit e si fa uno XOR con 0x1b che non mi ricordo come mai ho scelto 0x1b e in questo modo potevamo anche vedere gli ESC tramite un'applicazione da cellulare che non ho fatto tempo a finire di sviluppare e qui erano contenuti gli ESC in 2 byte moltiplicati per 100 per dare la possibilità di avere decimali ma alla fine abbiamo usato solo gli interi e poi abbiamo la pagina da 9 a 15 qualcuno ha guardato almeno da un cellulare cosa c'era dentro? nessuno? ok pagine da 9 a 15 contenevano random quindi abbiamo 7 gastronomi 0x15 ESC ESC e random random perché? perché così era un po' un modo simpatico per truffare la gente e far finta che fosse una super criptatura Antani a 1024 e quindi per far sbattere la testa un po' alla gente anche se gli ESC erano scritti su questi 2 byte con un oxor semplicissimo cioè quindi erano byte 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 di stronzate 2 byte di ESC mi piace su 64 byte 2 byte contenevano un'informazione utile ovviamente allora beh chiaramente non era così semplice come modificare il valore degli ESC perché il contenuto intero della scheda veniva dampato su l'SD card la volta successiva che inserivamo la nostra scheda il valore di tutte quante le celle veniva confrontato con il file relativo che tra l'altro il nome del file è quello che viene quando si inserisce un ESC sotto il display e quindi veniva confrontato il contenuto del file col contenuto del biglietto e se c'era qualsiasi discrepanza suonavano allarme di tampering niente di niente di spettacolare e questo è praticamente l'unico modo di rendere sicuro un sistema del genere quindi un database in cui in basato sul numero di serie registriamo quanti ESC ci sono a monte e non solo sul biglietto effettivamente gli ESC presenti sul biglietto sono solo per riferimento quindi per l'utente se vuole leggerseli per conto suo piano B doveva avere un piano B ovviamente se qualcuno faceva cazzate rovinava il primo Arduino faceva qualche danno tramite la porta seriale del primo Arduino ho mandato fuori tutti quanti i log tutti i log delle transazioni ed era attaccato e questi log andavano a un altro Arduino Pro Mini tramite il seriale e questo provvedeva a salvarli su un'altra SD card di backup quindi se qualcuno faceva danni sul sistema principale aveva un SD con tutto il log delle transazioni e poteva eventualmente rimborsare in ESC cartacei chi non aveva più un ESC funzionante se proprio le cose andavano tragicamente e questo era del piano B visto che c'ero questo secondo Arduino pilotava un motore servo e un sistema di allarme il sistema di allarme serviva a riconoscere un tampering fisico quindi il nostro Ubi che la notte si mette con i suoi pickers a cercare di aprire questo dispositivo cosa sarebbe successo questo lo faccio con una chiave ovviamente con la chiave sua no non l'ho ingaggiato non so se si sente adesso l'allarme è attivo c'è un simpatico allarme la serratura è aperta però non avrebbe dovuto aprirsi a questo punto avrei guardato questo oggetto ci avrei pensato un attimo poi mi sarei precipitato verso il fosso e l'avrei cercato di lanciare all'interno senza pensareci troppo sarebbe stato inutile comunque aprirlo con lockpicking perché c'era un servo che bloccava l'apertura a prescindere a meno che non fosse inserita la card corretta e quindi avevo queste tre card in tasca una per aprire una per chiudere e una per ricaricare gli esc quindi le safety features riassumendo sono security for obscurity innanzitutto double hardware lock quindi resistente lockpicking con un lucchetto meccanico e un lucchetto elettronico e un human firewall ovvero tutti i baristi erano istruiti a non accettare nessuna carta diversa da questa e senza il bollino art2 che su questo non c'è quindi questo qui preveniva per esempio qualcuno che aveva una card completamente programmabile oppure avrebbe dovuto prevenire qualcuno con una card completamente programmabile quindi anche col seriale programmabile di poter rubare gli esc a qualcun altro e usare la sua la sua card punti deboli qualcuno ha idea di vuole provare a indovinare qualche punto debole è possibile creare nuovi esc da zero o tutti i seriali sono registrati a monte allora il sistema funziona in questo modo se tu avevi un esc per esempio c'è questo esc che questo iMob che non è programmato all'interno della mia macchina una volta inserito dice carta non riconosciuta giustamente il modo per accettare questa carta era prima inserire la carta di programmazione e subito dopo inserire la iMob e da credito 10 ESC ora questo qui è un ESC pal attivo 10 ESC esatto esatto allora weak points sono quindi bugs in the code perché ci sono questo questo qui il codice per questo l'ho scritto l'ho finito lunedì mentre stavamo montando il camp attacchi fisici quindi portare via la scatoletta aprirle in un posto in cui l'allarme non dà fastidio o cose del genere e lo sbiriguda che è questo because there is no patch for human stupidity quindi ubriacarmi e rubarmi le card clonarmi le card era abbastanza difficile perché le ho sempre tenute all'interno di un contenitore metallico frugare sulla mia borsa che lasciavo spesso in giro spesso e volentieri in giro nella mia tenda nelle mie tasche e e e e e quindi fondamentalmente a meno che non abbia non mi sia perso qualcosa e a meno che non ci siano grossissimi bug nel codice non l'unica l'unica modo per forzare questo sistema è il social engineering e anzi c'era un bug nel senso che siccome il secondo arduino il primo arduino mandava via seriale al secondo arduino il log dei pagamenti quando inserivo una card per esempio close il primo siccome il motore servo e l'allarme sono collegati al secondo arduino il primo arduino mandava al secondo la stringa open underscore door che era open o close door che veniva fuori scritta tra l'altro anche sul display e quindi se uno si faceva una carta qualsiasi con all'interno nell'area dati una scritta open door open underscore door questa questa scritta passava per la seriale l'altro arduino la interpretava come un comando di apertura ed effettivamente la porta si apriva però questa questo bug no no in qualsiasi zona di memoria della scheda però ho dovuto togliere questo bug perché non la seriale e la scrittura sulla SD non erano abbastanza veloci a stare dietro al dump della card ogni volta e quindi ho dovuto mandare molti meno dati ogni volta e quindi non è più stato possibile fare questo quindi anche questo è stato non è un bug domande vai si tutti i sorgenti saranno rilasciati non so dove penso sul github del crunch lab se bigshot mi da l'accesso non ce l'ho è vero e sono completamente d'accordo e basta se volete venire a vedere il contenuto del dell'aggeggio potete venire a vedere Gipo secondo te l'utilizzo di un airbag grazie poteva aiutare nell'apertura un airbag aiutava nella sicurezza attiva non c'entra niente allora vi do un'informazione ci sono i panetti pronti non c'è birra ci sono panetti gordissimi andate a mangiare perché fra poco panetti di fumo come mi capitò qui